Il turismo lento, quell'approccio di viaggio che privilegia la lentezza e l'immersione nel paesaggio, spesso a piedi o in bicicletta, ha ricevuto un impulso significativo grazie all'approvazione di un finanziamento di 47 milioni di euro. Di questi, quasi 6 milioni sono stati assegnati specificatamente ai cammini dell'Abruzzo. La decisione è stata annunciata dal commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione posti sisma del 2016, Guido Castelli, e segue l'ordinanza 128 del 13 ottobre e si inserisce in un più ampio programma di sviluppo che coinvolge le quattro regioni del cratere sismico. La ricostruzione ha finalmente segnato un cambio di passo a lungo atteso ed è il momento propizio per curare anche con particolare attenzione la strategia di rilancio di quei territori che tra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio del 2017 hanno ricevuto l'offesa gravissima del terremoto. D'intesa con i governatori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche abbiamo in previsione del grande giubileo del 2025 e dell'ottavo centenario della morte di San Francesco predisposto un programma finanziato con ben 47 milioni per alimentare il cosiddetto turismo lento, esperienziale. L'obiettivo è quello di creare un sistema integrato di percorsi che siano non solo sicuri e ben mantenuti ma che offrano anche servizi di alloggio e ristoro di qualità per camminatori e pellegrini. Un'attenzione particolare è stata rivolta all'accessibilità per le persone con mobilità limitata garantendo così che l'esperienza del cammino e del pellegrinaggio sia aperta a tutti senza barriere. Cammini, trekking e percorsi per solcare i nostri meravigliosi parchi, le valli, i monumenti di un territorio straordinario ferito ma sicuramente indomito e con tanta voglia di rilancio.